Ciao a tutti, cosa deve fare l'amante per acquisire potenziale rispetto alla moglie? Cioè come può fare una donna, in questo caso qua, rispondo a una domanda che mi sta fatta, lascio l'anonimato, diciamo, perché mi sto chiesto quello. Come fa una donna ad acquisire potenziale, un amante, una donna che fa l'amante rispetto alla moglie, avere più potenziale della moglie? Dunque, intanto il primo punto è non contraporsi alla moglie, perché più andrai a dire al tuo amante devi lasciare la tua moglie, devi far qua, devi far là, più lo spingerai compulsivamente verso la moglie. Poi devi tenere presente un'altra cosa importante, che se sei entrata come amante è perché questa persona ha bisogno di trasgressione, quindi non devi diventare istituzionale, nel momento in cui diventi istituzionale ti scontri, sei un canotto che si scontra contro la porta aerea della moglie, quindi non devi diventare istituzionale. Per non diventare istituzionale cosa devi fare? Per non diventare istituzionale devi mantenere la tua trasgressività, mantenere la trasgressività significa essere in grado di gestire le tue relazioni, diciamo, la tua relazione con questa persona, non in modo tale da dimostrarti nei secoli fedele come nei carabinieri, ma non devi chiedere nulla, ma fargli intendere che tu potrai anche andare tranquillamente con altri uomini, ci sono altri uomini che ti cortteggiano, ci sono altri uomini che ti desiderano, alcuni sposati, alcuni liberi, insomma, devi dare l'idea che non stai a pendere da lui, ovviamente devi controllare il sesso, cioè quando lo fai devi, come dire, avere prestazioni da porno star, però devi centellinarli nel tempo, e quindi devi trovarti altre situazioni, questo è fondamentale, almeno mentalmente, per non essere dipendente da lui, perché se rientri nella dipendenza, ecco, in questo modo acquisirai molto potenziale, e non è detto che lui lasci la moglie, però cercherai di dedicarti sicuramente più tempo, più attenzioni, più energie, e non sarai data per scontato, questo è fondamentale. Per questo video è tutto, ti ricordo che se ti iscriverai al canale, potrai vincere delle sessioni gratuiti di coaching emozionale con me, al raggiungimento dei 40 termini iscritti, non le iscrizioni procedono rapidamente, quindi iscriviti al canale e potrai vincere queste sessioni gratuite. Ciao!